Politica in questo senso è per antonomasi quella particolare attitudine o virtù soggettiva comune tanto al singolo cittadino quanto al governante che mira a risolvere i conflitti, a trovare punti di equilibrio tra gruppi e interessi contrapposti, a favorire il compromesso tra chi vive in universi non comunicanti e ad evitare insomma per quanto possibile che la soluzione delle controversie interumane venga rimessa al semplice uso della forza. E allora proprio questo particolare tipo di virtus che il nostro dipartimento ha trovato impersonato in maniera assolutamente esemplare nella figura di Daniel Barenboe, il quale con un'operazione tanto apparentemente semplice quanto assolutamente geniale è riuscito a mobilitare la straordinaria risorsa del linguaggio musicale per gettare un ponte tra popoli divisi da dilaceranti ferite.